Mi sembra strano che ci siano tempi lunghi per i bandi della Camera di Commercio che, a detta delle carte ufficiali, la Camera dice di essere pronta a emanare domani mattina, anzi già da un mese, e invece con due bandi ancora da costruire, non ben identificati né nelle cifre né nelle finalità, possono essere ugualmente fatti e impegnati nei tempi di legge. Io credo che qui si è stravolta la programmazione regionale, tra l'altro in una PQ che vedeva protagonista, anche sottoscrittore, anche il Ministero del Sviluppo Economico e quello della Ricerca, che non sono stati coinvolti in questa modifica, per cui non sappiamo neanche se sono d'accordo, e per questo io interrogherò entrambi i ministeri per sapere se sono d'accordo su questo, e se non fossero d'accordo i tempi sarebbero ancora più lenti, allora sì che forse avremo il disimpegno per mancanza di tempo. Su una delibera del 7 febbraio dice due bandi non meglio identificati e non meglio precisati, uno per dei progetti di sviluppo locale e uno per dei progetti attinenti prioritariamente, e non neanche esclusivamente sull'automotive. Ora, tutto quel discorso, tutto quel lavoro, tutto quell'accordo di programma è stato costruito con una serie di passaggi articolati e complessi, nei quali c'era anche un piano economico, un piano finanziario e soprattutto un piano occupazionale che a noi ci interessava, per il quale crediamo che il Ministero abbia preso impegni proprio perché c'erano anche ricadute di tipo occupazionale. Si annulla tutto quanto, si rimanda tutto al 2014-2020, quando poi sappiamo tutto un tema così come la tecnologia, sappiamo che sarà ormai oltre il passato e bisognerà rifare tutto, e si fanno dei bandi, non si capisce bene di che definizione, in che maniera e soprattutto per chi vengono fatti questi bandi.